Come verrà utilizzata la donazione applicandola su una serie di progetti l'accoglienza gratuita per le famiglie che vengono da fuori di Trieste durante il ricovero dei loro piccoli il supporto psicologico ed emotivo durante l'adegenza dei bambini quindi anche dei genitori all'interno del reparto nonché un appoggio anche economico quindi un rimborso per le spese di viaggio molte famiglie vengono da fuori e hanno in un momento come questo, insomma anni come questo anche la necessità di poter essere supportate sotto questo punto di vista qui e anche in un ambito di gestione dei volontari di ABC Sì, no, siamo praticamente felici di premiare questa Olus, questa realtà un po' per quello diceva prima la Presidente, cioè per le valenze di questo progetto il fatto che ABC abbia vinto un bando di unità foundation per noi di soddisfazione e anche dimostra la capacità della progettualità di questa realtà e per l'impatto che produce, io sembra che questo wealth indiretto a volte non si percepisce ma in realtà crea un meccanismo virtuoso di aiuto che purtroppo a volte le realtà pubbliche non riescono a fare quindi il fatto di unire pubblico, privato, enti, associazioni, banche che possano aiutare credo che sia un elemento positivo per tutto il territorio quindi oggi credo sia una bella giornata e siamo praticamente felici di essere qui Aggiungo solamente che naturalmente la donazione in sé ci permette di portare avanti dei progetti ma anche un'altra valenza che è assolutamente importantissima cioè permette di poter dare delle basi per una progettazione futura e questo è fondamentale per le famiglie che arrivano a Trieste che conoscono la chirurgia del burlo, che conoscono ABC e che curano continuativamente i loro figli avere un punto di riferimento che sia impegnato in progettualità a medio e lungo termine Grazie Grazie Grazie.